Tommaso Milanese è un nuovo giocatore della Cremonese, si va pure rima, quindi era proprio tutto studiato, doveva andare in un club di Serie A che finisse per ese, eccola qui trovata la Cremonese, calciatore per chi non lo conoscesse di proprietà della Roma, quest'anno ha giocato in prestito con la maglia dell'Alessandra dove ha collezionato comunque la bellezza di 35 presenze in Serie B, quindi comunque un numero importante trovando un gol e un assist. A pro da titolo definitivo alla Cremonese dove secondo me sarà il titolare fisso perché è un giocatore di qualità, classe 2002, ha 19 anni ragazzi, per me io queste cose non le concepisco anche perché quelle poche volte che ha giocato con la maglia della Roma ha fatto bene, ha trovato pure un gol, se non sbaglio ha trovato appunto tre presenze in Europa League lo scorso anno con Fonseca e due dalla panchina, una da titolare e segnò proprio contro il CSKA di Sofia nella partita finita 3-1. Per la Roma, quindi diciamo che svendere questi calciatori non è di buon gustaglio al mio modo di vedere anche perché è italiano, il calcio italiano deve crescere con questi giovani, dobbiamo metterli in mostra, devono mettersi in mostra ma dobbiamo anche dargli l'opportunità. È vero, è un'opportunità mandarlo comunque alla Cremonese perché a Roma non è che giocherebbe titolare per carità, però comunque me lo sarei tenuto perché un calciatore di qualità alla Cremonese farà molto bene e in quel centrocampo potrebbe riordinare il tutto e comunque sarebbe appunto un calciatore italiano che è cresciuto, in squadre importanti che approvano una squadra che comunque deve salvarsi neopromossa dalla Serie B. Quindi secondo me diciamo che è un acquisto bello, molto ben puntato da parte di questa squadra, anche perché le neopromosse si stanno muovendo veramente bene sul calciomercato, comprese anche quelle di Serie B. Vedremo se il calcio italiano in questi anni potrà risalire, ma per esempio il Monza sta facendo veramente un calciomercato strebitoso con nomi importanti, di esperienze che conoscono il campionato italiano, addirittura anche esperienze a livello europeo. Fatto sta che questo milanese comunque è un centrocampista centrale, di piede destro come detto può giocare da mediano, appunto centrale che è il suo ruolo caratteristico e trequartista, quindi molto d'utile che all'occorrenza appunto può giocare anche alla sinistra, qua c'è scritto. È un giocatore con buone doti di dribbling, è anche veloce, dinamico, capace di muoversi tra le linee, con i suoi tempi di inserimento, offensivi, quindi comunque è un giocatore che attacca molto la trequarti, gli piace proprio esporsi e secondo me è veramente ottimale per le caratteristiche. Della Cremonese a 750 mila euro, voi pensate se quest'anno dovesse esplodere, pensate voi che affare ha fatto la Cremonese, è veramente qualcosa di incredibile, per me è una cifra troppo bassa, perché comunque come detto è giovane, cioè per me si poteva tranquillamente mandare un altro anno in prestito appunto alla stessa Cremonese, per poi vedere cosa farci, perché è molto promettente e io vedo qualcosa in lui, veramente mi piace tanto. Alla Roma comunque resta il 30% della futura rivendita, quindi sembra un affare stile frattesi, perché appunto la Roma ora sta trattando il centrocampista del Sassuolo, che sembrava un giocatore mediocre, comunque un giovane che potrebbe crescere però su cui non c'è puntato e appunto è diventato qualcosa al Sassuolo. Ora puoi usufruire della clausola e della rivendita del 30% in modo da avere uno sconto obbligatorio praticamente da parte del Sassuolo e quindi molto probabilmente le due parti si metteranno d'accordo, si sta limando gli ultimi dettagli. Quindi ora Milanesi ha la stessa formula del contratto di frattesi e quindi magari negli anni a seguire potrebbe appunto tornare nella capitale, appunto se dovesse far bene, fatto sta che è cresciuto alla Roma, nella Roma giovanile, quindi comunque è un ragazzo che molto probabilmente tifa Roma, ha la fede proprio giallo-rossa, quindi fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, fatemi sapere che voto dareste a questo voto, anzi a che voto date perché è ufficiale al colpo della Cremonese, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque, forza grande Roma!